Si è svolta oggi nella sede della città metropolitana di Torino di Corso Inghilterra la conferenza metropolitana sulla programmazione scolastica 2016-2017. Scopo dell'incontro, raccogliere le indicazioni e le proposte di comuni e scuole in merito all'istituzione di nuovi corsi di studio o all'accorpamento di scuole e in generale sulla razionalizzazione del sistema scolastico. Entro il 23 novembre la città metropolitana di Torino e le province piemontesi dovranno emanare i decreti sui piani di competenza che saranno trasmessi alla Regione Piemonte. Entro la fine dell'anno la Giunta regionale dovrà approvare il piano regionale sul dimensionamento e la programmazione per l'anno scolastico 2016-2017. Durante l'incontro sono emersi anche molti dati sull'evoluzione del mondo della scuola. Dal 2000 ad oggi c'è stato un incremento dell'11% della popolazione scolastica in provincia di Torino ma sono fortemente diminuite le direzioni didattiche e notevolmente aumentati gli istituti comprensivi che raggruppano più scuole. L'istruzione è la funzione fondamentale della città metropolitana così come lo era per la ex provincia. Nulla è cambiato nelle competenze e nulla credo si cambierà nell'impegno e nell'attenzione che ha dato la provincia in passato e noi diamo il senso di continuità nel cambiamento. Oggi c'è la conferenza territoriale in momento importantissimo. In passato veniva svolta sui territori. Questa per la prima volta abbiamo ritenuto opportuno con il sindaco di farla in sede di città metropolitana per fare in modo che tutti i rappresentanti dei territori, sindaci, assessori, dirigenti scolastici si incontrassero per comprendere tutti insieme qual è la voce e l'indirizzo della città metropolitana. La programmazione annuale per noi è importantissima. Poi dipende cosa intendiamo per programmazione annuale. Ci sono i due livelli, le sa, uno è quello politico che di anno in anno decide come distribuire i punti di erogazione, i servizi di diversi punti di erogazione e poi ce n'è uno interno che per noi è quello che è il piano dell'offerta formativa. Io credo che la politica in questo momento deve stare molto attenta a quelli che sono i bisogni che il territorio manifesta e orientare le scelte verso questi bisogni, cercando però di non disperdere le specializzazioni, tra virgolette, perché abbiamo bisogno di fare massa critica perché soltanto facendo massa critica su certe specializzazioni si riesce a fornire poi un prodotto di qualità. La domanda di istruzione superiore va verso l'allargamento dei confini della scuola. Andiamo ben oltre quelli che sono i momenti di applicazione didattica in classe. ci viene chiesto di aprire la scuola all'esterno, agli enti locali e di portare i ragazzi al di là di quella che è la concezione italiana, andare in Europa, andare nel mondo intero. Quindi la scuola si sta attivando, grazie anche alla 107 del decreto legge del 13 luglio 2015. Si chiede alla scuola che essa venca aperta, si renda disponibile a tutte le esigenze del territorio, delle famiglie e degli alunni. La scuola deve essere al centro dell'educazione, al centro dell'istruzione, centro di raccolta per tutte le necessità dei nostri giovani.